Tutorial sul muscle up? Ok, però questo è come io sono arrivato al muscle up. Per prima cosa avevo almeno 10 trazioni e almeno 10 di palla sbarra. Successivamente ho approcciato le trazioni esplosive, prima con un elastico leggero, 10-15 serie di singole a basso recupero di trazioni con la barra che toccavano il petto. Successivamente sono passato a farle libere, aggiungendo però anche un piccolo slancio. Anche in questo caso facevo delle singole 15 serie con 30 secondi di recupero. Poi stessa cosa ma con una zavorra, ovviamente non una zavorra pesante, io ero partito da 2,5 kg, poi sono passato a 5 kg. Arrivati a questo punto ho anche imparato la tecnica, il momento in cui ho trazione è quando ho raggiunto il massimo slancio e sto iniziando a tornare indietro. Dovrebbe uscirvi un qualcosa del genere. Arrivati a questo punto dobbiamo ripetere ma dobbiamo cercare di buttarci in avanti con il corpo, in questo modo andremo sopra la sbarra.